Quanti anni sono che ce lo dicono? Ma guarda, anni! Fatelo al Ghione soprattutto! Fatelo al Ghione, fatelo al Teatro Ghione S'hanno messo in croce E infatti E infatti noi stiamo in croce Quanto sarà che stiamo qua su? A giudicare dal sole Sei, sette ore Il capello mi portava un fiasco di vino E' la storia di due ladroni che stanno in croce Due ladroni Un vinaio, che lo interpreta Augusto Fornari E un maestro elementare Il testo è scritto da Pietro De Silva Io c'ho fame C'ho una fame Ci sarebbe un giochino per quando si ha fame Bisogna dire tutti i piatti Come di fronte a una tavola imbandita Facciamolo subito Facciamolo Inizia tu Inizio Sì Rigatoni Fettuccine Codini Carciofi alla giudia Sfrommato di patate Acciuga sott'olio Sampetto di gallina in brodo Cannelloni Trip al sugo Ribollita Tronchetto di maiale affumicato I pisci con il sugo di lepre Basta, non ne fa più Non ne porta più sospenni Durante una sacra rappresentazione pasquale Vengono dimenticati lì su due croci sul Monte Sorate E si scambiano riflessioni sulla vita Su loro stessi Fino a un imprevisto Adesso non lo diciamo Però adesso noi siamo in croce Ci siamo noi e va bene Non è che vengono quattro spettatori in croce Qui dovete venire Cioè nel senso Dovete venire Adesso noi non è che vogliamo mettervi in croce E dire venite, venite, venite Però insomma Perché diciamo Noi Cioè siamo noi D'altra parte caro Massimiliano Noi che cosa abbiamo scelto? Noi abbiamo scelto il teatro Ghione E quindi Sceglietelo anche voi Il teatro Ghione D'altronde scegliere è lecito Mica tutte le scelte sono scommette Mica tutte le palle sono coglioni Il ragionamento non fa una pietra Per via Il ragionamento non fa una pietra